Vi abbiamo fatto aspettare un pochino, ma potrete capire che con una maratona come quella che ci aspetta, ovviamente l'attesa non fa altro che scaldare quelli che possono essere la vostra piacevolezza e i vostri ricordi. Questa canzone credo che qualcosina abbia fatto arrivare alla vostra mente. È un grande piacere che mi ritrovo qua con voi questa sera. È la seconda volta che io presento uno spettacolo nel mio paese e la seconda volta che lo faccio per una persona speciale. Infatti stasera non sono qui solo in veste di presentatrice, ma ricordo anche uno zio. È vero. Ben trovati, come diciamo sempre, per iniziare nel migliore dei modi i nostri incontri con la musica. Più forte è più bello l'applauso, se no non parte nulla, qua non succede nulla. È una serata importante. Voi dovete mettermi al centro, tra voi due, perché siamo qua in tanti per ricostruire un ricordo. Devo dire che io non ho aneddoti personali che mi legano a questa figura che stasera avrà l'omaggio di tanti colleghi e sono veramente tanti. Le migliori espressioni calcheranno questo palcoscenico. Pre, ecco Peppe, c'è Fabrizio che già si è sistemato alle tastiere, c'è Massimo, è lui. Eccolo, 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 eccolo. Tonietto Salis. I sine dubbio portano avanti da un po' di tempo un progetto che è quello di portare ancora a conoscenza delle grandi platee quello che è il senso della musica che i Salis nei lontani anni 70, fine 60, inizi 70, avevano cominciato a raccontare. A raccontare una storia in musica che comincia con Festa Mancata. Grazie a tutti. 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 a tutti.